Dobbiamo cercare in tutti i modi di aprire i 10 posti del topelisti per la lunga decenza. Noi siamo pronti per poterlo fare, anche perché il lavoro di adeguamento delle strutture è breve. L'unica cosa è che necessitano due medici, 6-7 infermieri e 9 osso. Quindi il problema per gli infermieri e per gli osso non si pone, il problema è reperire il personale medico. Con i concorsi, tutto questo è monitorato anche dal capo dipartimento che è qui presente, il dottor Francesco Elemona, che lui sta la stanza seguendo, sta dicendo che ne riusciremo ad ottenere tramite concorsi personale necessario per poter procedere all'apertura, lo faremo in via istantanea, perché è una scommessa, è una volontà dell'azienda a fare questo, anche fuori delle polemiche futili e si sentono... No, 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 no.